Paola, ci presenti il poeta? Però io non ho niente da rappresentare, solo due poesie che sono un po' Prego, presentiamo il poeta di Senigallia, Massimo da Senigallia Sono due litighi che normalmente mi ricordo sempre perché fanno parte del mio essere Ora è molto breve perché comunque è un pensiero che diventa anche una testimonianza Perché io domani mi ha conosciuto e quindi in qualche maniera mi ricorderà E dice così, insomma, si esprime così Vai ad osservare come cadono le foglie Desideri già lì di maestrì più di un cassetto Ma fatti trovare con le mani vuote in mente credevi di avere tutto e presto La seconda è, diciamo, si chiama Rosa del deserto ed è dedicata a una figura femminile Che si può identificare in una figlia, in un amante, in una moglie, in una figura femminile Come Rosa del deserto nasci dal nulla ma con fierezza così acquisti la vita Accarezzi la terra sperandola dolcemente Mentre le mani del vento si ricordano intorno al corpo imitante Voluttuosa si scioglie l'arcine delle chiome O storia intrigante che solletica per gli altri segreti del volto e dell'anno Diciamo perché di qualcosa è una presentazione perché nessuno di voi mi conosce a parte Luisa e lei non è giunto Questa di passione alla poesia è nata in realtà abbastanza matura che ero già sposato Come qualcuno ha detto prima, in una notte mi è venuti in mente determinate cose mentre dormivo, come quasi al solito Questi versi, questi approcci diversi, mi sono alzata dalle 2-3 del mattina e le ho messi, diciamo, postiti così, dei piccoli occhi E poi durante la giornata ci ho riprenduto sopra e sono nati, diciamo, i primi interventi E sono sei poesie che risalgono nel 1976 Quindi, diciamo, non mai ci sono passati per i palmi Da lì poi è stato un fiume in piedi E, diciamo, probabilmente come per un miracolo è cominciato, diciamo, a rendersi necessitati Mi tiro fuori tutto questo bagaglio di emozioni, sentimenti che proprio erano fiumi in piedi In qualsiasi situazione mi capitava nella vita Potevo essere a casa da solo, ma nell'autostrada Perché io ho lavorato molto, diciamo, con la gente di commercio E quindi ho tirato l'Italia e l'Italia Io gli dicevo anche a voi Io sono un poeta di autostrada No, è un poeta di autostrada E quindi erano sempre piccoli appunti che mi facevo E poi lavoravo quante le tracce Oppure ero al ristorante Quindi c'era sempre carta e penna o matita che mi aiutava E per tanti anni ho messo da parte centinaia e centinaia di testi E però erano lì, però ho messo uno sopra l'altro Poi una volta ho avuto l'opportunità di domandare Chissà, forse è meglio che incomincio a ricatalogare Ma le ho catalogate non più come cronologia Ma come tema Sì, io ho fatto sette libri, sette edizioni Ho concorso a arrivare parte d'Italia, premi, conoscimenti Ma non è questo È il fatto che i miei libri raccontano una storia legata a ogni libro che ha una sua tematica E quindi ho pescato per, diciamo, cercare di raccordare quelle che secondo me potevano andare E ho presentato questo primo profondo, diciamo, di brutta copia A una carissima mia che ha una amministratrice E lei è rimasta sopra e ha detto Possibile? Perché nessuno mi conosceva in questa resta È stata una sopella Dice, lei, tu questa le devi Di cominciare a fare concorsi Fai dei libri, di droghe, di droghe E da lì era quasi quel posto libero Non mi sentivo di far scoprire agli altri Quello che era la mia interiorità, no? Che era l'esperienza Quasi una forma di ritrosia, no? E invece, dopo questo primo libro Si chiamava Sumi di Farfada Era presentato in vari posti E ho avuto tanti riconoscimenti Da lì c'è stata la spinta definitiva E adesso l'ultimo libro è datato nel 2013 Ho due libri da dovere far nascere Ho chiesto alla nostra amica Luisa Se gli dà una mamma E a quella forma riusciamo a riuscire a fare Questo è il mio percorso, diciamo, letterario Bellissimo, complimenti Grazie